Sarà attivo fino al 31 luglio due volte a settimana il progetto sperimentale Un chilometro in salute, promosso dal Comitato Provinciale della WISP in collaborazione con l'Ausole di Rimini, il Comune di Misano e l'Associazione Sportiva Misano Podismo. È rivolto gratuitamente a persone di età comprese tra i 18 e gli 80 anni. Solo il 16% della popolazione adulta riminese inattiva, il 41% risulta invece svolgere attività fisica in maniera corretta. L'obiettivo del progetto è testare nei prossimi tre mesi almeno 480 persone. Questo tipo di progetto vuol fare sì di creare gruppi di cammino omogeneo in modo che tutti possano camminare in sicurezza e piacevolmente con il proprio passo e con il passo dei propri vicini e anche eventualmente presentandosi anche da soli o in piccoli gruppi trovare, grazie all'utilizzo di braccialetti colorati che determinano e caratterizzano le loro capacità, anche con altri che non conoscono, per fare gli stessi percorsi alla stessa intensità e alla stessa velocità. Abbiamo deciso di valorizzare questo progetto, l'ultimo nato di questi investimenti, il Parco del Sole a Misano, Brasile, che abbiamo realizzato con fondi europei e aperto poco più di un anno fa. Secondo me c'è un miglioramento della qualità perché si tratta di un progetto con caratteristiche tecniche e scientifiche molto importanti che favorisce la mobilità che fa bene alla salute e fatta in compagnia.